Caro investitore, hai ereditato un patrimonio importante, ma hai ereditato anche il consulente dello zio che ti ha lasciato i soldi. Seguimi perché ti dirò due cose a cui devi prestare attenzione. Ben trovati! Questo lo chiamavano saver pilole di educazione finanziaria che rappresentano la punta di un iceberg. Perché il ghiaccio sommerso è un corso gratuito che si chiama Welcome e di cui ti lascio il link in descrizione se vuoi imparare a investire da solo in maniera libera e gratis. Ma prima di arrivare all'argomento di oggi, permettimi di chiederti un piccolissimo favore. Per noi è importante che tu supporti questo progetto iscrivendoti al canale. È gratuito, ti basta un clic per noi fa veramente la differenza. Grazie! Ma veniamo all'argomento di oggi. Ho ereditato un consulente. Magari un consulente di tipo bancario tradizionale. Cosa devo fare? Beh, sostanzialmente una volta lasciata decantare un po' il lutto, la mancanza per la persona scomparsa, devi fare due cose. La prima, ovviamente, è fissare un incontro con il consulente chiedendogli il rendiconto Mifid. Ne abbiamo parlato in un'altra puntata di Saver, che ti lascio in descrizione, ma sostanzialmente è un rendiconto di costi della consulenza, per capire quanto lo zio, il nonno, il papà o quella persona che è scomparsa effettivamente stava pagando in termini di costo di gestione. E inizia a preoccuparti se questo costo supera l'1,60% all'anno, l'1,5% per dare un valore. La seconda cosa è rimetti in discussione gli obiettivi di investimento, perché quel portafoglio lì rifletteva le esigenze, la tolleranza al rischio e così via di una persona che non c'è più. Tu non sei tuo nonno o tuo zio o il papà o la mamma e quindi hai esigenze diverse, per cui vale la pena fermarsi un attimo, capire cosa si sta facendo e ridisegnare il proprio portafoglio. Cosa che puoi fare anche tu in modo semplice creando ad esempio un portafoglio permanente, quindi fatto con strumenti a basso costo che tendenzialmente possano andare bene per tutte le occasioni. Questo non è l'ottimo perché ovviamente le situazioni cambiano, però è molto meglio che non pagare spese esorbitanti da un consulente bancario. Grazie per il like se questo video ti è piaciuto, che ti invito naturalmente a condividere. Noi ci vediamo martedì prossimo. Con segreti bancari lo chiamavano saver investire diversamente.